Rieccoci insieme per un nuovo appuntamento con l'oroscopo. Oggi è sabato 12 gennaio 2013. Cominciamo dalla riete. Giornata un po' nervosa la vostra. Cercate di non arrabbiarvi per i particolari insignificanti. Sarebbe solo uno spreco di energia. Toro, oggi farete meglio a non dare le cose pratiche per scontate. Controllate di avere con voi la lista della spesa, le chiavi della macchina o di essere stati ben compresi da parenti e colleghi. Gemelli, sarete di umore migliori rispetto ai giorni scorsi, ma dovrete comunque mettere in conto qualche piccolo contrattempo che potrebbe darvi un po' di fastidio. Cancro, non sarà una giornata proprio eccezionale. Cercate di reagire al cattivo umore ed evitate di prendere ogni parola e ogni contrattempo sul personale. Il mondo non ce l'ha con voi, è solo un'impressione. Leone, giornata divertente e movimentata, piena di spunti interessanti da approfondire appena riuscirete a trovare il tempo. Sul lavoro vi divertirete. Vergine, giornata abbastanza piacevole, ma se volete un consiglio, fate attenzione alle spese, sia reali che virtuali. Bilancia, buona giornata la vostra, perlomeno l'umore sarà allegro. Cercate però di non fare le cose troppo in fretta. Controllate una certa ansia che vi farà sgommare al semaforo o vi farà sorvolare su qualche particolare se volete evitare grane. Scorpione, oggi un po' di stanchezza vi renderà poco socievoli e disponibili verso il resto del mondo. Chi deve lavorare farà un po' più di fatica del solito. Sagittario, oggi potrete approfittare di una giornata abbastanza tranquilla. Cercate però di non farvi coinvolgere troppo dai problemi dei vostri familiari o degli amici. State sicuri che sapranno cavarsela benissimo da soli. Capricorno, oggi non sarà la giornata rilassante che vorreste. Imprevisti e impegni di varia natura vi terranno sempre in movimento. Acquario, giornata piacevole ma movimentata sia mentalmente che fisicamente e non potrete rilassarvi come avreste desiderato. Pesci, sarà una giornata un po' meno agitata delle precedenti ma le cose da fare saranno comunque parecchie. Sul lavoro fate attenzione se dovete gestire soldi o beni non di vostra proprietà. E anche per oggi abbiamo concluso con il nostro oroscopo ma vi aspetto domani alla stessa ora.